Da sempre che cerco di tornare alla mia terra e da parecchio che abito all'estero andrei via nel 1981 per studiare fuori però da allora ho sempre cercato di rientrare per vedere la famiglia e da qualche tempo con un po' di esperienza sto cercando anche di apportare quello che so per cercare di aiutare a fare sviluppare questa terra che anche se è lontana, visto la distanza, però è sempre vicina, visto l'affetto. Ecco professore, lei tiene dei corsi anche all'Università della Calabria Sì, in questo momento di fatti sto dando un corso alla laurea magistrale di Economia e Commercio dell'Unical Sì, è un invito che mi è stato fatto, io ho accettato molto volentieri proprio per questo legame che ho con la mia terra e sono molto contento sinceramente perché è cominciato ieri e i ragazzi sono una cinquantina sono veramente bravi, realmente mi fa piacere dare lezioni a questi ragazzi che hanno voglia di imparare Quindi si vede un buon potenziale, professore? Ottimo potenziale, io do lezioni grazie alle mie istituzioni, ho lavorato in più di cinquanta paesi sono anche professore invitato in diverse università, in America e in Europa il livello degli studenti in genere è molto buono, molto alto e devo dire che, per questo sono così contento che il livello di questi ragazzi che sono con me nel corso in questa laurea magistrale certamente non ha niente di invidiare agli altri, magari solo il livello di inglese potrebbe migliorare Siamo un po' disabituati noi italiani in realtà Sì, purtroppo sì Non solo i calabresi, proprio penso in Italia No, in generale i latini, però i portoghesi no, i portoghesi parlano diverse lingue però noi italiani magari abbiamo molto da fare per migliorare, diciamo così Ecco, professore, lei ovviamente si occupa di marketing e di turismo le potenzialità della Calabria sono note a tutti, però ancora non si riesce a decollare, perché? Sì, le potenzialità ci sono, il clima c'è, la vegetazione c'è pure, quindi l'estetica, la sila, il mare voglio dire, è un microclima molto interessante il mare è sempre stato eccezionale, però secondo me si è lavorato poco insieme non c'è stato un piano, secondo me, Calabria sono diversi fuochi in diverse aree che secondo me, se queste iniziative fossero un poco più sinergiche potrebbero ottimizzare meglio le risorse e quindi essere un po' l'attrattivo più importante questo da una parte poi dall'altra parte, purtroppo la natura non è sufficiente bisogna, chi va in vacanza, chi scopre e vuole esperienze nuove ha bisogno di ricevere determinati servizi ci sono diversi paesi, anche limitrofi che in questo momento sono capaci di offrire dei servizi realmente di un certo livello e quindi anche alla Calabria si deve addestrare, preparare per fare la stessa cosa